Riparte dal centro sportivo Poggio degli Olivi la stagione della primavera 2015-2016. Sotto gli occhi del duo Ruscitti-Gammarata sono 39 ragazzi che hanno iniziato quest'oggi la preparazione. Ritornano dal ritiro di Prizzo Ferrato 5 Bevi Biancazzurri, i portieri Castrati e Giacchetta e i difensori Diallo, Milillo e Ventola. Oltre ai ragazzi della passata primavera di Oddo e quelli promossi dagli allievi nazionali, si aggiungono Viviano Minardi e Steven Danzo. Minardi è un centrocampista classe 98 arrivato in prestito secco dal Genoa. Suggerito da Massimo Oddo, suo allenatore nella stagione 2013-2014, con gli allievi del Grifone ha conosciuto e stretto amicizia con l'altro neo biancazzurro Mandragora. Centrocampista di destra a scuola Cosenza è in grado di giocare sia sulla linea mediana che in difesa. Steven Danzo è un centrocampista ganese consigliato fortemente da Selasi. Suo compagno di squadra in Ghana. Il talento classe 97 è in grado di giocare sia come trequartista che come centrare basso davanti alla difesa. Sempre al poggio degli olivi partiranno il prossimo 3 agosto le preparazioni delle categorie allievi e giovanissimi. Grazie a tutti.